Layout, Dembosch contro Dream Team, 1-0 per i Dembosch, anche se sono i Dream Team sin dalle battute iniziali a fare la partita. Sul pallone Zanetti segue la penetrazione di Pisa che non arriva sul pallone. Sica, alza il pallone alla ricerca di Basile che sbaglia lo stup, poi ancora Nunzio Pisa e il dribbling. Ha subito un fallo, un calcio. Luca Rosiello adesso, ancora cerca il colpo di tacco per Ferrante, se ne va centralmente, poi si allunga il pallone, si riparte dalle mani di Barriale che serve Sica, buonissimo il dribbling di Giovanni Sica, il tiro deviato in fallo laterale. Ancora fallo laterale, palla alzata d'esterno, sbagliato il tutto, si riparte dai piedi di Antonio Basile, servito ancora da Ferrante. Alza il pallone alla ricerca di Luca Rosiello, anticipo bene Giovanni Sica. Zanetti, sbaglia completamente il passaggio, il pallone finisce sul fondo. Giovanni Sica ancora, De Vivo, ancora per Basile che non riesce a girarsi, Pisa fa buona guardia, poi si gira e torna a correre. Ancora per Rosiello, Rosiello il dribbling, poi sbaglia il passaggio, Rosiello De Vivo aveva anticipato e poi Basile ancora. Basile si al centro, il tiro di Basile deviato. Il pallone finisce in calcio d'angolo. Questo è Basile della Rebella? Sì. Ok, allora lo faccio. Il fratello di Antonio. Sì, no, è lui Antonio. Giuseppe si chiama il fratello. Rosiello sbaglia tutto, stronzo. Ancora dal fondo, il passaggio per De Vivo, sbaglia lo stop, poi Pisa, Pisa il passaggio per Ferrante, Ferrante se ne va centralmente, allarga poi bene per Basile che cerca ancora lo spazio, egoisticamente lo spazio per il tiro. Ancora palla al centro, messa tesa, anticipa Sica, poi il tiro di Basile ancora al volo. Guadagno a un calcio d'angolo. Ferrante ha la battuta. Il tiro di Rosiello, altissimo, arrivato scordinato sul pallone, chiediamo qui il collegamento.